Eccoci qui, un saluto come state, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di iscrivervi, di lasciare un like, notizia tremenda per il Milan, piove sul bagnato, grandina sulla grandine, scegliete voi l'immagine che rende di più, perché questa mattina si è sottoposta agli esami strumentali Ciao, che ieri è uscito infortunato, purtroppo insomma siamo di fronte a una severa, nel comunicato che ci ha girato il Milan viene scritto così, severa lesione mio-tendinea del bicipite femorale, di solito instabilita lesione normale, lesione di basso grado, in questo caso severa lesione, quindi è qualcosa di molto molto serio, che verrà rivalutato poi tra una decina di giorni, che però ecco, terrà lontano a lungo Ciao dai campi, probabilmente non si rivedrà prima di febbraio e capite che questa è una notizia tremenda, visto che hai già fuori Calulu, che rientrerà a marzo, hai fuori Pellegrino, che si vedrà credo con l'anno nuovo, hai fuori Caldara, hai fuori pure Kier, che non c'è non c'è mai, insomma, l'unico che c'è è Tomori, che tra l'altro è diffidato in campionato, situazione incredibile, un infortunio molto serio, purtroppo non solo si fanno male, ma si procurano anche infortuni molto seri e Ciao, che non si era ancora fatto male, era tra i pochi non essersi ancora fatto male, starà fuori a lungo, è un infortunio molto serio, il Milan già doveva fare un difensore a gennaio, starà a vedere, a questo punto dovrebbe farne due, Kier non c'è mai, c'è solo Tomori, vedremo come andrà Simic con il Frosinone, però la situazione da un punto di vista delle infortuni è drammatica, questa è una doccia gelata, tremendamente gelata, perché non solo si è fatto male, ma si è fatto malissimo e starà fuori a lungo, non se ne può più, ditemi che ne pensate, si ribella anche la voce, vi invito a lasciare un like, a commentare, iscrivervi da questa parte numerosissimi e sfogatevi pure sempre con civiltà e con rispetto, che non devono mancare mai, però la situazione è tremenda, un saluto.